Notiziano, vi presento il mio progetto di case prefabbricate in legno ecosostenibili partendo dalla paglia come materiale isolante. Queste sono delle pareti che ho inventato io, avendo la parete prefabbricata riusciamo a ridurre i costi e a ridurre i tempi di costruzione. La parete viene fatta con un capotto esterno in lana di roccia, una struttura portante integrata all'interno della parete, una coibentazione all'interno in paglia pressata ad alta densità e un capotto interno sempre in paglia per mantenere il più possibile l'ecosostenibilità della parete. Abbiamo fatto diversi studi di prove di tenuta termica, di trasmittanza e di risparmio energetico. Noi con le normative del 2020 siamo già in classe A4, al di sotto delle normative considerate casa passiva. Noi con le nostre pareti siamo a trasmittanze di 0,09 e un consumo energetico di circa 3 kilowatt per metro quadro all'anno. Con la tipologia di legno che utilizziamo, con la densità della paglia che andiamo ad utilizzare e con gli spessori importanti da 56 centimetri siamo arrivati appunto a una classificazione energetica al di sotto delle normative e dei parametri considerate di casa passiva che sono dai 5 ai 7 kilowatt per metro quadro all'anno. Allora questa che vedete qua è un prototipo di un'abitazione che costruisco è fatta con le pareti prefabbricate che vengono costruite a magazzino e poi trasportate in cantiere direttamente dal cliente. Questa è l'abitazione tipo con tutte le varie finiture che andiamo a fare dai serramenti alle porte interne ai pavimenti alla domotica sia nella parte idraulica che nella parte elettrica e l'impianto fotovoltaico con la VMC e ricambio d'aria. Questa è una nostra casa tipo. Le pareti che abbiamo costruito sono state costruite per avere sempre un ambiente salubre e ecosostenibile al 100%. Non abbiamo utilizzato materiali con rilasci di formaldeide, con rilasci di sostanze volate e inquinanti ma abbiamo fatto proprio una ricerca riguardo i tipi di materiali da utilizzare. Siamo partiti dalla paglia che è un materiale di scarto dell'agricoltura nostra locale e quindi a chilometro zero per utilizzare al meglio il prodotto. L'abbiamo ricercato proprio nel nostro territorio del Polesine. In più utilizziamo il legno che è un materiale naturale dopodiché anche la costruzione della casa viene fatta tutta quanta completamente a secco senza parti in cemento. L'unica parte in cemento che viene fatta è la platea ma una volta completata anche quella viene rivestita in legno e paglia. Se volete ulteriori informazioni potete trovarci tutti i giorni su appuntamento in via Romea 12-A a Porto Viro. Buonasera a tutti, sono Molena Gianluca dalla Suberite System di Codega di Sant'Urbano. Noi partecipiamo al progetto di Tiziano Tengo Fibre rappresentando un prodotto che è il suberite che è un sughero da applicare alle pareti esterne e di interne a base quindi di un prodotto da dare a spruzzo o a frattone. Il nostro prodotto è termico, idrorepellente, le proprietà sono anche elastiche quindi mi permettono di resistere alle micro cavillature. È un prodotto che vogliamo inserire nella zona qui perché riteniamo molto performante. Il progetto Suberite System nasce da un'azienda di Codega di Sant'Urbano dove noi lavoriamo scarti di sughero lo assembliamo con delle resine a base d'acqua e forniamo questa pittura termica molto performante per l'edilizia. Essendo un prodotto naturale, essendo un prodotto non invasivo può andare a compensare tutto quello che sono le ristrutturazioni nelle nostre zone che presentano una forte umidità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!